La terapia a base di plasma dei guariti per il trattamento dell'infezione Covid-19 è sotto i riflettori e continua ad accendere grandi speranze in attesa dei risultati delle sperimentazioni in corso anche in Italia. Il Ministero della Salute avverte che non è ancora un trattamento consolidato perché non sono ancora disponibili evidenze scientifiche robuste, ma parallelamente si pensa già alla messa a punto di un possibile farmaco basato sul plasma e prodotto su scala industriale. L'orientamento del Ministero sull'utilizzo del plasma chiarisce il Vice Ministro alla Salute Pierpaolo Sileri e andare avanti, ma sempre sulla base delle evidenze scientifiche e a breve sono attesi i primi risultati dalle sperimentazioni. Bisognerà investire su questa ricerca e il Centro Nazionale Sangue CNS già attivato. Inoltre vedo una prospettiva futura anche per i sieri iperimmuni, ma su questo entrerà in gioco anche l'Agenzia Italiana del farmaco AIFA perché non si tratta di donazioni di sangue ma di farmaci. Se i risultati delle sperimentazioni saranno cioè positivi, ha spiegato, è evidente che si può pensare a un uso più su larga scala mediante convenzioni con aziende che possano ottenere dei sieri, ovvero farmaci.